Buongiorno, sono Bailo Carlo della OMB, sono responsabile vendite. Qui abbiamo i nuovi prodotti portati alla ISEE, un carrellino con all'interno una molla gas che permette di alzare ed abbassare il TV all'altezza richiesta senza dover fare sforzo o dover smontare il TV. Altri prodotti che abbiamo portato all'ISE sono dei telecomandi professionali dove in base al tipo di TV viene programmato direttamente il telecomando. Abbiamo degli accessori per tablet universali, ovvero non valgono solo per un tipo di tablet ma per tutti i tipi di tablet che finora abbiamo trovato sul mercato. Una piantana da portare all'interno di negozi per presentazioni di vari prodotti con la possibilità di bloccarle in maniera tale che nessuno si porti via il tutto. La possibilità di montare il tablet a parete, sia fisso che inclinato. Il supporto inclinato può essere messo anche sul tavolo o sul mobile per una presentazione di prodotti all'interno di musei o rificerie o altre installazioni di questo tipo. Poi abbiamo in concessione per l'Italia questo sistema di pubblicità interattiva data direttamente dal servizio internet, si può installare in tutti i negozi di una catena e cambiare, mettere varie promozioni man mano che escono, sia giornalmente che eventualmente anche ogni ora.